salve ragazzi cari amici del web sono andrea bruni in questo momento mi trovo in indonesia questo qui è il palazzo del sultano sono all'interno del palazzo ce l'ho fatta ad ottenere un pass non è aperto al pubblico il posto è molto bello vi faccio vedere un po una panoramica questo qui è la portantina che usa lui per andare in giro per spostarsi qui abbiamo diversi ambienti ecco tutto all'aperto di una semplicità incredibile per alcuni versi mi ricordo un po' Gheddafi che anche lui viveva in una tenda qui più o meno la vita qui si svolge tutta all'aperto e anche perché c'è un clima bellissimo in questo momento sta piovendo non piove spessissimo anzi piove molto raramente quando piove è sempre per spazi archi di tempo molto brevi ecco qui abbiamo questo quel posto dove riceve il sultano ecco da qua si arriva lungo questa passerella ecco qui c'è via un'anticamera per il ricevimento è che in questo momento non c'è nessuno si arriva da qui si continua qui avanti e poi in fondo in fondo il sultano da udienza ecco il posto veramente molto bello ci sentiamo alla prossima ciao a tutti